Ben ritrovati su Icona Clima. Dopo la tregua di domenica purtroppo è tornata l'instabilità sulle regioni del nord che tra l'altro proseguirà fino alla giornata di mercoledì per il passaggio di un fronte instabile sull'Europa centrale. Questa instabilità darà luogo a tratti a temporali anche particolarmente violenti, con intense grandinate, con chicchi anche particolarmente grossi e forti raffiche di vento che localmente potrebbero anche superare i 100 chilometri all'ora. Ma attenzione perché martedì questa instabilità tenderà a scivolare anche più verso sud in particolare a coinvolgere il centro Italia, Toscana, Umbria e Marche in particolare e dopo settimane di temperature elevate l'energia in gioco è molto elevata per cui attenzione anche su Toscana, Umbria e Marche nella giornata di martedì e probabilmente anche mercoledì potrebbero verificarsi temporali particolarmente violenti. Al sud i temporali non dovrebbero arrivare tuttavia il caldo si attenuerà grazie all'arrivo di più freschi venti di maestrale. Da giovedì tornerà l'alta pressione a stabilizzarsi sul Mediterraneo, tornerà quindi un tempo più stabile con qualche temporale essenzialmente limitati ai settori alpini.